Natura incontaminata, panorami mozzafiato e tanta neve per il primo appuntamento a Capracotta di questo weekend con le gare regionali di sci di fondo. Numerosi gli atleti partecipanti alla competizione, svolta comunque in maniera riservata per le limitazioni anti-Covid. Un segnale di speranza e di normalità in una giornata tipicamente invernale, nella prospettiva di rilancio economico e turistico. C'è stata questa prima gara ed è foriera di cose buone perché stiamo nella parte finale di tutto l'iter burocratico relativo alla realizzazione delle opere che daranno a Prato Gentile, alle nostre piste di fondo, il titolo di centro federale per lo sci di fondo. Saremo praticamente il centro federale più a sud d'Italia, dell'Appennino, e Capracotta potrà tornare ad essere protagonista e punto di riferimento dell'intero Appennino per lo sci di fondo. Un fine settimana dunque trascorso sulla neve a Prato Gentile per gli appassionati della montagna, delle escursioni e dello sci di fondo. Ma arrivano buone notizie anche per gli amanti dello sci alpino. Per lo sci alpino posso dare questa bella notizia che abbiamo finito dei lavori importantissimi per la messa in sicurezza dei due impianti, della seggiovia e della sciovia. E quindi se il 15 febbraio si dovesse davvero riaprire noi saremo nelle condizioni di farlo. Abbiamo già fatto il pre-collaudo, nei prossimi giorni la motorizzazione, il Ministero dei Trasporti farà il collaudo ufficiale, il collaudo definitivo. È una bella notizia perché dopo tre anni di chiusura forzata finalmente può ripartire anche lo sci alpino. La raccomandazione del primo cittadino candido paglione è tuttavia quella di rispettare le regole in maniera scrupolosa sui distanziamenti sociali e sull'uso delle mascherine. E infine per la provincia di Sernia l'appello di organizzare un piano neve adeguato per consentire a chi sceglierà Capracotta come meta turistica di raggiungerla in sicurezza.